Il Consorzio PDA nasce dalla volontà di un gruppo di distributori di creare una catena attiva su tutto il territorio nazionale con competenze per due settori, auto e carro. Come è nata l'idea del Consorzio? L'unione di cinque distributori che escono da un altro Consorzio e formano un nuovo gruppo con la mia collaborazione a livello nazionale sia sul settore auto che sul settore carro. Quali sono gli obiettivi che si pone questo Consorzio? È stato creato un progetto all'inizio del progetto distribuzione Automotive dove partendo dalla distribuzione arriviamo fino all'utente finale creando all'interno sia dei soci ricambisti che soci officine. Stiamo perfezionando un accordo anche nel settore della carrozzeria con un altro gruppo che farà parte del Consorzio PDA. Ci dia un po' di numeri, quanti sono gli associati? Quest'anno gli associati sono 25 per quanto riguarda i distributori mentre a livello ricambistico sono 52 e a livello di officine sono circa 400 sul territorio nazionale. Una battuta finale sul Consorzio, quali sono i progetti futuri? Sicuramente lo sviluppo e continuare la copertura a livello nazionale sul progetto officine.